Volevo cominciare subito con un aneddoto, una storia che risale a Carnevale. Quando ho deciso insieme a dei miei amici di partecipare a una festa in maschera, e il problema più grande è sempre quello, qual è la maschera migliore, qual è. E mi è venuta subito in mente una cosa, un pirato con la gamba di legno. E quindi sono tornato a casa, ho preso una vecchia protese, ho provato a rilattarla con un tubo dell'adesivo a forma di legno, e è venuto fuori questo. E' stato il primo premio, abbiamo vinto la gara di festa in maschera. E quando sono entrato lì, infatti, a Carnevale è strano, cioè ti puoi vestire i modi più strani, i trucchi, e le persone mi vedevano e mi dicevano, wow, come fai, qual è il trucco? Ovviamente non c'è trucco, ho veramente una gamba di legno. E il trucco non c'era appunto perché cinque anni fa, in un incidente motociclistico, ho perso la gamba. Ma è un incidente e quindi sicuramente mi ha cambiato la vita. Ma ad oggi non mi sento di dire che me l'ha cambiato in peggio, anzi. Voglio dire che me l'ha cambiato in meglio, perché non so se è la questione del carattere o la persona o io, ma non vedo in un'amputazione un problema, un disagio o una disabilità. La prima cosa che mi dicono è, sei speciale, l'ha affrontata al meglio, grande. Ma io mi sento, cioè vengo da fermo, una provincia, una piccola provincia, non mi sento niente di speciale. Sono un ragazzo normalissimo che ho solo la mia voglia di vivere. Oggi sono qui per parlarvi di quello che è stato il mio percorso da quell'incidente fino ad oggi, quello che è stata la mia vita e la mia disabilità. Ad oggi io sono un atleta della Nazionale Italiana di Sitting Volley e vi parlerò di quei traguardi che ho raggiunto insieme io e la protesi, io in questi cinque anni. Sono riuscito a far parte della Nazionale Italiana di Sitting Volley e a partecipare al primo campionato europeo della Nazionale di Sitting Volley italiana. Sono riuscito a laurearmi in igiena dentale alla facoltà di medicina qui di Ancona. Ho partecipato al secondo europeo nel 2017 in Croazia dove abbiamo avuto la prima vittoria storica dell'Italia in una competizione internazionale. Sono stato in Corea del Sud per le qualificazioni di campionati mondiali, che non è andato bene purtroppo, però ci arriveremo. Questo per dirvi, non per farmi bello, per dire che comunque lo sport è stato molto importante per me, fin da subito. Anche prima dell'incidente ho sempre giocato a calcio, ho giocato a rugby, ho fatto nuoto, ho pugilato. Dopo l'incidente volevo trovare un modo per tornare a fare sport, volevo provare quale sport riuscissi a fare con la protesi. Mi sono riaffacciato all'atletica, ho ricominciato a fare pugilato, ho ricominciato a fare calcetto, torne di calcetto per quanto era possibile, però vedevo che non era mai il massimo, non riuscivo a dare tutto me stesso. Finché un giorno mi è stato proposto di provare il Sitting Volley, che io non conoscevo. E la cosa che più mi ha stupito è che entrare in palestra, tu entravi in palestra, toglievi la protesi, ti sedevi a terra e giocavi, senza bisogno di alcun ausilio, senza protesi, senza carrozzine, senza nessun ausilio. Per chi non lo sapesse il Sitting Volley è la pallavolo paralimpica, che ha esattamente le stesse regole della pallavolo e in Italia è nata solamente tre anni fa. L'unica e due regole aggiuntive della pallavolo sono che si può murare la battuta avversaria e al momento del tocco della palla bisogna avere il gluteo a contatto con il terreno, se no il fallo è il lifting, che non ti puoi alzare. Per quanto riguarda la squadra nazionale, come vedrete, sono tutti ragazzi con diverse disabilità. Comunque la rossa deve essere composta da 12 atleti disabili, con un'eventuale eccezione di minimi disabili, di due minimi disabili, dove il minimo disabile può essere, per esempio, per capirci, un atleta con una protesi interna di ginocchio o una protesi interna di anca. Mentre a livello nazionale c'è il campionato italiano che prevede la presenza di due disabili in campo, mentre gli altri giocatori possono essere normodotati. Mentre per quanto riguarda l'avventura del powerlifting, lì è uno sport singolo di squadra. Io ho iniziato subito ad allenarmi con la squadra nazionale, perché quando ho iniziato la squadra si stava formando. Ho iniziato subito ad allenarmi con la nazionale e questo momento è stato molto importante nella mia vita, perché dalla provincia di Fermo, dove io ero lo zoppo, si può dire, ero con la protesi, ero io che avevo la protesi, stare dei giorni a contatto con 20 disabili di tutta Italia, di diversa età, mi ha permesso di aprirmi al mondo delle disabilità in una maniera nuova, che non avevo mai pensato, perché ho incontrato persone che per 40 anni, cioè io facevo la festa in maschera con la gamba di legno, e ho conosciuto persone che per 40 anni non avevano mai tolto la protesi, per vergogna, per timore, per... non saprei. Grazie al sitting volley e ai compagni è riuscito a togliere quella protesi, addirittura davanti a un pubblico, con i figli. Voleva giocare a palla a volo, che era lo sport che amava, con il figlio che amava, e con il sitting ci è riuscito. Le persone che aveva la palla a volo come unico stimolo di vita, i sportivi fissati, vogliono stare lì a giocare, con il sitting volley è tornato a vivere. È arrivato il momento del primo europeo, Germania nel 2015, gli atleti di tutta Europa. E lì è stata un'emozione grandissima, ma soprattutto è stato vedere come tutti quegli atleti disabili vivevano con tutta la normalità possibile, con lo staff, la gente che comunque girava intorno a questo sport, che erano normotati, persone normali. ma noi si sentiva accettati, cioè non c'era diversità, non c'era discriminazione, eravamo tutti uguali nelle nostre diversità, perché poi lì c'erano carrozzine, c'erano protesi, a livello del ginocchio, a livello dell'anca, le cose più disparate, ma eravamo tutti uguali lì. E quello è un altro step che mi ha permesso di ampliare molto il mio pensiero. E questo è proprio quello che io ho trovato di valore nel sit-in-volley, che non ho trovato in altri sport che ho sempre praticato nella mia vita. È l'integrazione, la sensibilizzazione che si può avere. L'integrazione, che ho detto, con gli staff, ma soprattutto il livello di squadra e di club, dove c'è un minimo di due disabili e gli altri giocatori possono essere normodotati, il normodotato dopo i primi due allenamenti, tre allenamenti, vedono che le difficoltà sono le stesse, il gioco è lo stesso, non c'è nessuna differenza. E è capitato proprio nella mia squadra, dopo i primi allenamenti, il nostro, quello che adesso è allenatore, all'inizio era giocatore insieme a noi, e ci ha detto grazie, grazie ragazzi, perché sono riuscito a vedere oltre quella protesi. Cioè io sono venuto il primo giorno e ho visto la protesi, e ho detto, cavolo, questa persona ha avuto un problema, ha problemi. Dopo due o tre allenamenti, lui chiedeva a noi dei consigli, noi che giocavamo con la nazionale, che eravamo più allenati. Quindi c'era anche quel rovescio della medaglia, dove noi eravamo d'aiuto a loro, per dire, guarda, la posizione migliore è questa, puoi fare meglio così. Io credo molto in questa sensibilizzazione, perché conoscendo queste persone, questi atleti di tutta Italia, ho capito quello che può essere, essere giudicati solo perché si portano a protesi. Io, per me e per altri, non è un problema. Cioè io so chi sono, e non è la protesi a darmi o togliermi qualcosa. Ma molte persone non ce l'hanno fatta. Non riescono a superare quegli sguardi. E per questo io credo molto nella sensibilizzazione. Ah, non vi ho parlato della squadra, se ti invogli di fermo. Tra l'altro mi sono lasciato trasportare. Perché mi sono allenato con loro, ma io avevo voglia di allenarmi di più, perché con la nazionale ce l'avevamo una volta, una volta a settimana, una volta al mese, una volta ogni due mesi. Quindi con un grande impegno siamo riusciti, con la nostra voglia di crescere, siamo riusciti a creare la prima squadra di sitting volley nelle Marche, che era la scuola di pallavolo fermana, dal 6 gennaio 2016. E questo è il gruppo che vi facevo vedere prima. che grazie all'impegno siamo riusciti a formare un gruppo fantastico e arrivare terzi al campionato, all'ultimo campionato italiano per club su 16 squadre partecipanti. È stata un'emozione, una bellissima emozione. Per quanto riguarda quella sensibilizzazione, quel riuscire a far superare gli sguardi e la situazione è semplice, far vivere a certo contatto le persone con la protesi per fare in modo che non venga più visto come qualcosa di diverso o di strano, ma solo quello che è, ovvero un asilio per camminare. E con loro stiamo cercando di fare più manifestazioni possibili, per far conoscere questo sport, che secondo me sensibilizza in maniera straordinaria, ma soprattutto corsi nelle scuole, perché gli uomini e le donne di domani saranno i ragazzi di oggi. Quindi entrare in una scuola, durante l'ora di educazione fisica, di far giocare a palla a volo, vedono cos'è una protesi, vedono cos'è un atleta che può giocare a sitting bowling, ma possono giocare lì anche loro. e il primo impatto sicuramente, anzi, sono molto più attenti, perché vedono qualcosa di nuovo, ma dopo la terza lezione mi chiamavano per giocare con loro, e quindi già il lavoro, il sit in bowling era fatto, quelli ragazzi erano sensibilizzati, ormai la protesi non la vedevano più. Vorrei concludere quello che è che è la mia idea di disabilità. Voglio spingere sul sit in bowling perché è quell'unione, quell'affetto che puoi avere, quell'apertura mentale, perché nel corso della mia vita sicuramente non sarei quello che sono oggi da solo. Ho avuto la fortuna di avere una famiglia fantastica che mi ha supportato in tutto e per tutto, non mi hanno lasciato mai da solo, hanno speso tempo, soldi, tutto quello che potevano, mi hanno dato la vita. Ho avuto degli amici speciali, veramente speciali qua, che nel periodo in cui non avevano ancora la protesi, avevano ancora le ferite aperte, mi dicevano dai esci, dicevano ragazzi dove vado, con le stampelle, voi andate tranquilli. Loro venivano a prendermi, mi portavano a concerti, facci spiaggia, facevano in modo che la mia condizione non fosse un problema, se non c'erano un posto a sede facevano alzare persone, se non si poteva arrivare in un posto in auto andavano, mi dicevano dopo parlo io con la municipale, la polizia, e quindi non mi hanno lasciato mai da solo. E questo, e fin da subito, questo mi ha aiutato a farmi capire che non ero diverso, per quello non ho visto fin da subito la limitazione nell'amputazione e nell'amputazione, perché lì ero con loro, di nuovo con loro, dopo l'incidente, a divertirmi, a vivere. E la stessa cosa che ho trovato nel sitting, dove non avevo problemi con la protesi, perché ero io, senza gamba, senza protesi, come il mondo mi ha fatto. Lì potevo tornare ad essere uno sportivo, anche ad alti livelli, in pieno, senza alcuna limitazione. E infine, sicuramente c'è il mio modo di pensare, il mio modo di essere, che, come ho detto prima, non è speciale. Io ce l'ho avuto fin da subito. Nel corso del tempo ho avuto il piacere di condividerlo con qualcuno, qualcuno che, forse all'inizio, aveva bisogno di una spinta, di un aiuto. E io sono stato contattato da amici di amici e ho detto subito sì, vengo, Civitanova, Loro Piceno, San Benedetto, vengo, vengo, assolutamente sì. e sapere che quelle mie poche parole, quel mio poco tempo è stato l'aiuto per loro per tornare a vivere, tornare a lavorare, tornare, per me è stato come vincere una seconda volta. Per questo, per dirvi in tutto che l'esilienza, cioè, perché per me ad oggi, non so come sarebbe stata la mia vita senza incidenti, ma ad oggi tra la mia famiglia, tra gli amici, tra il mio modo di essere e di pensare che è il mio, io ad oggi mi sento che la vita mi ha donato molto di più di quel piede che mi ha tolto. Quando parlo con questi ragazzi, vado, come ho fatto con voi con il pirata, porto alcuni esempi. E soprattutto, il primo era quando, il primo giorno abbiamo provato una protesi da bagno che sono andato al mare con degli amici e abbiamo postato una foto con tre uomini e una gamba. Oppure, dopo il tremendo terremoto nelle Marche che io quando dormo sono senza protesi, non sarei potuto scappare in qualsiasi modo. E la mattina mi sono svegliato a bordo del letto, ho messo le gambe le protesi al lato così e sotto ho messo la didascalia. Anche stanotte ero pronto a scappare a gambe levate. Basta prendere consapevolezza di sé che non ci sono limiti se non ci li imponiamo perché tutti nella vita abbiamo dovuto affrontare qualcosa di tragico che può essere la perdita di un piede, che può essere la perdita di una persona cara, che può essere una malattia, un disagio. Qualsiasi persona ha un evento da superare ma io sono sicuro che superare quel limite, quell'evento traumatico si può e si deve fare perché come abbiamo imparato il sitting la vita è un gioco e ognuno di noi ha il proprio ruolo, ha i propri infortuni nel corso della carriera ma finché continuiamo a giocare separati sarà difficile che vinciamo quindi facciamo appunto come nel sitting che ci togliamo le maschere, ci togliamo le protesi, ci mettiamo in gioco tutti insieme, ognuno con i propri limiti per fare in modo che la disabilità possa diventare dal limite all'opportunità. Grazie. E scusate l'emozione. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.